La CNA Abruzzo chiede ai parlamentari abruzzesi di intervenire sul governo Renzi affinché imponga una moratoria sugli aumenti dei pedaggi autostradali per almeno tre anni, dopo l'ennesimo aumento da parte di strada dei parchi che gestisce la A24 ed A25. Secondo l'associazione, gli aumenti sono ingiustificati in un momento in cui l'economia abruzzese è in difficoltà. Noi oggi chiediamo ai parlamentari abruzzesi di invertire questa rotta nefasta, la definirei, e di chiedere al governo Renzi di congelare per almeno tre anni gli aumenti sulle autostrade abruzzesi. Io aggiungo, essendo presidente nazionale, che si debba rivedere complessivamente tutto il tema che riguarda i pedaggi autostradali e le concessioni. Per gli autotrasportatori questa è una delle voci più importanti di costo e in un momento di crisi come quella che le imprese abruzzesi stanno attraversando sono costi assolutamente insostenibili. Negli ultimi 17 anni Roma-L'Aquila è aumentata di oltre il 150%. Noi siamo in presenza di aumenti che si ripercuotono non solo sui cittadini ma anche sugli autotrasportatori e in generale sull'economia abruzzese. Perché un'infrastruttura strategica come l'autostrada, fatta con i soldi dei cittadini, quindi a carico della fiscalità generale, ora viene gestita in modo tale che i pedaggi costano di più della benzina. Abbiamo presentato già molte interrogazioni, atti parlamentari, contro questo che secondo noi è un'assurdità, un paradosso. Quegli aumenti ingiustificati, al nostro avviso, è superiore a qualsiasi media nazionale, a qualsiasi altra autostrada. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati, ci auguriamo che adesso anche i parlamentari della maggioranza facciano il loro dovere e facciano quello che almeno a parole dicono di voler fare. L'obiettivo è quello di presentare un documento comune al governo e anche al concessionario. Esattamente, è quello di presentare un documento comune per bloccare l'aumento delle tariffe, recuperare gli aumenti che ci sono stati negli anni passati e arrivare almeno a un numero di anni senza aumenti perché almeno per recuperare in parte quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Grazie.